Ieri sera una 18enne di Caserta è stata coltellata durante una lezione serale presso l'Istituto Tecnico Michelangelo Bonarroti, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Sant'Anne San Sebastiano, la vittima è sotto costante monitoraggio. Presunta colpevole dell'atto è una 17enne, compagna di classe, che è stata poi fermata. L'incidente è avvenuto durante un litigio tra i banchi, alimentato da precedenti divergenze tra le due ragazze. La 17enne avrebbe prima verbalmente attaccato la vittima per poi estrarre un coltellino e colpirla alla testa, schiena, braccia e gola. Un compagno di classe è intervenuto per fermarla. I carabinieri di Caserta sono intervenuti sulla scena, mentre la Procura per i minorenni di Napoli ha messo un fermo per la 17enne, accusata di tentato omicidio. L'inchiesta è in corso per comprendere appieno le dinamiche dell'evento e valutare le conseguenze legali. Grazie a tutti.